Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, finalmente siamo riusciti a portare questo contenuto, finalmente siamo vicinissimi all'apertura del gruppo VIP. Cos'è il gruppo VIP? Sarà un nuovo canale Telegram che andrà parallelamente al gruppo gratuito che trovate ora, AVC Trading Sportivo, che ve lo lascio qua sotto in descrizione. A brevissimo sarà disponibile il gruppo VIP, un gruppo per tutti coloro che vorranno sostenere il progetto che stiamo portando avanti in questo momento col gruppo gratuito. Quindi se state vedendo questo video avete ancora pochissimi giorni per sfruttare il gruppo gratuito, poi questo percorso che stiamo intraprendendo sul gruppo gratuito sarà spostato per tutti coloro che creano il progetto nel gruppo VIP. Quindi adesso vi lascio alle clip, vi lascio al video e noi ci vediamo alla fine per le considerazioni finali. Ragazzi finalmente siamo arrivati fino a qua. Pensavamo di aprire questo canale VIP molto molto più avanti, almeno un mese, un mese e mezzo più avanti. E grazie a voi che avete creduto nel progetto, che ci avete permesso di arrivare già a 100 iscritti sul canale gratuito di AVC, abbiamo deciso di aprire il canale VIP. E come sarà il nostro servizio? Sarà un servizio di segnali di trading a pagamento che rispiecchierà tutto quello che abbiamo percorso fino ad ora, ma avrà delle aggiunte e ve lo spiegherò adesso. Dopo alcuni mesi percorsi insieme abbiamo deciso di rendere esclusivo questo servizio che stiamo dando per ora, per permettere solo a coloro che credono nel progetto di poter usufruire di esso al 100%. Abbiamo deciso di fare una piccola promozione lancio, questo è molto importante ragazzi, abbiamo deciso di fare una promozione lancio ma non sarà una promozione che dura due o tre giorni, o meglio ci sarà una promozione che durerà pochi giorni per permettere a tutti coloro veramente che proprio sono fomentati con il training sportivo di iscriversi e fare proprio il primo mese con pochissimi soldi senza praticamente pagare e permettere a tutti coloro di sperimentare almeno un mese di questo servizio e poi ci sarà una promozione lancio che durerà tutto l'inverno, ma lo vediamo subito. Nel servizio saranno comprese delle live esclusive su YouTube, quindi delle live private con un link privato per tutti coloro che fanno parte del gruppo VIP, dei trade esclusivi del canale VIP che non saranno compresi nel canale gratuito, studi e approfondimenti dedicati sulle partite, sulle squadre, pronostici pre-match di alcuni dei big match, questo di solito lo facevo nel live ma adesso daremo dei pronostici proprio da schedinari sui big match, che comunque abbiamo visto che in live stiamo veramente veramente dando dei pronostici di valore e azzeccatissimi delle volte. Live su richiesta, questo è molto molto importante, se avete bisogno di spiegazioni su vari trade possiamo fare delle live su vostra richiesta, quindi mi chiedete Alex facciamo una live su questo trade, su questa tipologia di trade, su questa tipologia di strategia, facciamo delle live su questo perché non la riusciamo a capire, Alex non riusciamo a sfruttare questa tecnica, fammi una live qua, fammi una live di qua, e le faremo, le faremo insieme, voi mi chiedete e io farò lezioni complete sull'utilizzo di software di analisi, io pensavo di fare delle lezioni private per tutti coloro che fanno parte del gruppo VIP su goal profit, su social stars, su score bet, su live bet, su sofascore, tutti questi servizi software a pagamento o no, che ti permettono di avere una marcia in più senz'altro nel trade, dove ottenere informazioni importantissime per fare trading, come analizzare i mercati, tutte queste cose saranno comprese nel gruppo VIP, e delle strategie di trading avanzate, che non condividerò all'interno del canale YouTube, nel canale YouTube come avete visto ho dato solamente delle strategie basilari, che secondo me sono comunque delle strategie validissime ed sono quelle che utilizzo anche io più spesso, ma ci sono alcuni casi dove delle strategie avanzate hanno dei vantaggi rispetto ad avere strategie, diciamo, basilari. Quale sarà il prezzo? Questo è un po' tutto quello che ci chiediamo di questo servizio, il prezzo di lancio per un mese di gennaio, per il mese di gennaio, sarà di 5 euro, ma a che condizione? Le iscrizioni saranno aperte il 27 dicembre, quindi per tutti coloro che si iscriveranno tra il 27 dicembre e il 31 dicembre, il prezzo di gennaio sarà di 5 euro, dell'intero mese di gennaio, quindi non vi do un numero di trade, di movimenti predefinito, ne facciamo 30 e poi scade, no. Per tutto il mese di gennaio sarà il prezzo di 5 euro, mentre che si iscriverà successivamente, dal primo gennaio in poi, il prezzo per tutta la stagione invernale sarà di 10 euro al mese. Questo è tutto il nostro percorso di lancio, quindi il lancio durerà per tutto l'inverno, specialmente questi primi giorni di dicembre, scusate, sì, questi finali di giorni, insomma, di dicembre, quindi i primi giorni di gennaio e di dicembre. Poi, dal primo marzo in poi, questo servizio costerà 20 euro al mese, che sono veramente pochissimi, ragazzi, non troverete veramente nessun altro servizio che costa così poco, trimestrale 50 euro e annuale 175 euro invece che 2,40 se facciamo dei conti tondi. Perché stiamo dando un servizio che molti vendono, 80, 100 euro al mese a solo 20 euro? Il primo è perché vogliamo renderlo disponibile a qualsiasi tasca, Quindi, se sei un ragazzo, hai 18 anni, non lavori, 20 euro al mese, o 5, o 10, se ti scrivi subito, non andranno ad intaccare le tue tasche. Qualsiasi tasca, non c'è bisogno che tu sia un, che ne so, un ingegnere aerospaziale, un medico che guadagna 3.000 euro al mese per fare trading sportivo. Perché crediamo nel progetto e sappiamo che dare questo servizio a 20 euro permetterà a molte più persone di iscriversi e a renderlo proprio possibile per molte più persone e perché vogliamo che questi soldi non intaccano gli andamenti di un portafoglio di investimenti. Perché un conto è incominciare con un portafoglio di investimenti di 5-10.000 euro, allora anche 80-100 euro non intaccano il percorso di investimenti. Ma se abbiamo delle casse più piccole, di 2-300-400 euro, ci rendiamo conto che pagare 100 euro può essere il guadagno di un intero mese e quindi far pagare 80-100 euro a una persona che ha una cassa totale bassa di 300-400-500 euro ci rendiamo conto che va a intaccare troppo questo portafoglio. E quindi onestamente noi, sia io che Marco, abbiamo un altro lavoro, lavoriamo, non abbiamo bisogno di super entrate clamorose, ma allo stesso tempo crediamo che questo servizio debba essere retribuito per l'estremo valore che ha e quindi abbiamo deciso di mettere solamente a 20 euro questo servizio dal primo marzo in poi, fino alla fine del 2021. E poi si vedrà, non stiamo a fare progetti che sono troppo distanti. Ragazzi, questo è tutto ciò che riguarda il corso VIP e il gruppo VIP di Telegram. Io vi invito ad iscrivervi il prima possibile per usufruire del prezzo super lancio che stiamo offrendo adesso per questo gruppo. Ragazzi, io spero che questo video sia stato chiaro, che vi sia piaciuto, ma mi rendo conto che è solamente un video di lancio per questo servizio. Noi ci vediamo, come sempre, qua su YouTube, tra le 2 del pomeriggio e le 3 del pomeriggio. Mi trovate in live, vi manderò il link della live, sia che sia sul gruppo gratuito per ora e poi sui gruppi VIP. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su YouTube. Ah, mi raccomando, andatemi a seguire anche su Instagram, abbiamo aperto la pagina. Mi raccomando, andate a guardare. Like, commento, condividete questo video per farlo vedere a tutti gli altri ragazzi che vogliono intraprendere un percorso serio di training sportivo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!